Salve amici! Immaginate di vivere 180 giorni senza luce solare, chiusi in uno spazio limitato, obbedendo umilmente agli ordini della leadership e non potendo scappare nemmeno nel caso di minaccia diretta alle vostre vite. Non si tratta dei prigionieri di un carcere, ma dei marinai dei sottomarini. Essi devono infatti vivere per mesi all'interno di una botte di ferro? In questo video scoprirete come riescono i marinai disommergibili a mantenere la tranquillità in tali condizioni, cosa li rallegra e perché, nonostante tutte le difficoltà, il servizio sui sottomarini nucleari è considerato il più prestigioso della marina. Nelle loro memorie, i marinai disommergibili tracciano spesso parallelismi tra un sottomarino e una stazione spaziale. La navigazione autonoma spesso dura anche più a lungo di un viaggio orbitale di un astronauta, mentre lo spazio vitale assegnato a un membro dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale e a un marinaio di un sottomarino è più o meno lo stesso. Ma il peso della responsabilità per quest'ultimo è molto più alto. Sente costantemente la presenza invisibile delle navi nemiche o, viceversa, controlla segretamente i sottomarini del nemico. Per quanto riguarda i capitani dei sottomarini, hanno in mano quel pulsante rosso spaventoso che può cambiare la storia di tutta l'umanità. Hollywood ha creato molti film sui capitani di sottomarini nucleari che impazziscono in uno spazio ristretto. Per fortuna, in realtà, questo di solito non succede, ed è per questo che tutti i candidati passano attraverso una severissima selezione. La vita a una profondità in cui la pressione può facilmente schiacciare una persona non è facile. Bisogna essere preparati per molti imprevisti. Si dice no a una vita normale. Si vive secondo un programma rigoroso. Le 24 ore sono suddivise in tre cicli, uno per il turno di lavoro, uno per il tempo libero e uno per il sonno. Un'altra caratteristica è il letto. In primo luogo si dorme nelle bare, così sono chiamati i letti a causa della loro forma specifica. Ma questo non è il peggio. Su molti sottomarini non ci sono abbastanza letti, quindi si condivide il posto con altre due persone. Mentre uno è di guardia, il secondo dorme e il terzo trascorre il suo tempo libero da qualche parte nella sala da pranzo. In casi estremi si può essere collocati nella stanza dei siluri, dove ci sono letti extra. Inoltre, non lontano dalla zona di lancio, c'è una sala macchina con un vero reattore nucleare. Sì, la maggior parte dei sottomarini moderni esiste solo grazie all'energia del decadimento radioattivo, che tra l'altro fa brillare in strano modo i marinai di notte. Ovviamente sto scherzando, ma l'aspetto del sottomarino con la luce notturna accesa sembra davvero il fotogramma di un film su spaventosi mostri marini. E voi fareste diventare una tale bestia di metallo la vostra seconda casa? Bene, se la risposta è sì, allora preparatevi. Avrete un massimo di 1,5 metri quadri per i beni personali e spazi così piccoli vi circonderanno ovunque. Forse vi chiederete come fanno i marinai a respirare. Naturalmente non si può fare a meno di speciali sistemi di rigenerazione dell'aria. Nei sottomarini è installata una macchina speciale che rilascia ossigeno direttamente dall'acqua di mare. È anche necessario pompare l'anidride carbonica. Di ciò si occupano i depuratori di gas. Inoltre ci sono molti filtri per altri gas velenosi, particelle che volano nell'aria, nebbia d'olio, odori sgradevoli e altro ancora. Tutto per consentire ai marinai una buona respirazione. In generale, un sottomarino non è affatto una prigione come in passato. Nei sottomarini a diesel prodotti fino agli anni 60 del secolo scorso, i marinai dormivano su cuccette laterali proprio accanto alla loro postazione di servizio. È difficile da immaginare, ma per quasi tutto il tempo di navigazione, i marinai di quegli anni si trovavano in stanze anguste non più grandi di due metri per due. Ciò è molto peggio della reclusione, perché i criminali hanno almeno diritto all'ora d'aria. Ad esempio, la USS Pennsylvania nel 2014 ha stabilito il record per gli Stati Uniti per il pattugliamento più lungo di un sottomarino con missili balistici a propulsione nucleare, 140 giorni di navigazione. Durante questo periodo, i marinai hanno ricevuto un massimo di tre brevi messaggi dai parenti, che ovviamente venivano letti in anticipo dai servizi speciali, a causa del rigido regime di segretezza. Nei moderni sottomarini nucleari sono state create condizioni abbastanza confortevoli. Per quanto riguarda l'igiene, sono presenti docce e persino un bagno con una sauna rivestita di assi di legno. Vi piacciono i trattamenti termali? C'è anche un solarium a bordo. È presente anche una piccola piscina di due metri per quattro, riempita con acqua salata o volendo dolce, che si ottiene grazie a un impianto di desalinizzazione. C'è anche l'acqua calda, così potete farvi la doccia in tutta comodità. Di solito non è possibile lavare i vestiti. Dopo la doccia, i marinai ricevono set di vestiti puliti. Il cibo è delizioso. Durante i primi giorni di immersione avrete un banchetto di prodotti freschi, che durerà per diverse settimane, mentre il resto del tempo vi verranno cucinati prodotti a lunga conservazione. Da un numero relativamente piccolo di ingredienti, gli chef riescono a preparare molti piatti deliziosi. La dieta dei marinai di Sottomarini è particolarmente selezionata, perché a causa della mancanza di luce solare, hanno bisogno di un set speciale di cibo. Ad esempio, potete trovare vino rosso secco, caviale rosso e cioccolato molto amaro. Non si può fare a meno di piatti a noi familiari. Suppe, uova sbattute, arrosti e persino lasagne. Non mancano neanche i dessert, torta di ciliegie, mele cotte e altro ancora. Ma dopo un pranzo abbondante bisogna riposarsi. Per fare questo, televisori sono installati nelle sale da pranzo e condizionatori nelle cabine. Un vero e proprio hotel galleggiante. Quando siete stanchi di guardare film, avete a disposizione carte da gioco e giochi da tavolo, che rafforzeranno il cameratismo e aiuteranno a passare il tempo. Per coloro a cui piace mantenersi in forma, ci sono palestre speciali. Certo, sono piccole, ma sufficienti per lo scopo. Inevitabilmente, a bordo si accumulano molti rifiuti. Naturalmente non ci si può permettere il lusso di trasportare mucchi di immondizia fino alla fine del viaggio. Rimuovere i rifiuti non è così facile. Il dispositivo apposito deve funzionare in modo affidabile in profondità. Il sistema è un solido bunker a forma di camera chiuse, esattamente come sui veicoli spaziali. Vi entrano rifiuti triturati, spinti poi fuori bordo con un forte getto d'aria. Ovviamente i marinai non scaricano lattine e bottiglie in mare. Se tutto questo non vi spaventa e siete pronti a vivere in tali condizioni sott'acqua, allora potete iniziare l'addestramento. Certo, vale la pena dire subito che non tutti possono diventare membri dell'equipaggio di un sottomarino. Se vi piace osservare i mari e gli oceani, mettetevi alla prova come semplici marinai. C'è molto meno rischio e più libertà. In ogni caso, dovete seguire un addestramento e salire sul ponte di una nave normale. Dopo aver lavorato un anno o due senza subire il mal di mare, potete tranquillamente passare alla fase successiva, ma indipendentemente dal sottomarino nucleare in cui vi trovate, sarà richiesto personale altamente istruito e qualificato. Il corso di qualifica richiederà tra i 12 e i 18 mesi. La professione di marinaio di sottomarino è poliedrica, ma ci sono criteri di base per tutto l'equipaggio. Innanzitutto, la salute. Il sovraccarico associato alle immersioni subacque, gli orari complessi e il lavoro in uno spazio ristretto influiscono negativamente sia sulla condizione fisica che sulla psiche. Non tutti i corpi possono resistere a questo e quindi bisogna essere completamente sani. I sistemi cardiovascolare, nervoso, digestivo e respiratorio devono funzionare perfettamente. Durante l'addestramento dovrete soddisfare ogni giorno dozzine di standard diversi relativi ai carichi sportivi e la vostra salute sarà costantemente monitorata. Se supererete questi test, verrete inviati a un addestramento di 6 mesi, che comprende allenamento quotidiano, una dieta rigorosa e diverse simulazioni. Ad esempio, sarete costretti a immergervi a grandi profondità in una piscina appositamente preparata, per imparare a distribuire correttamente la pressione in tutto il corpo. Quando l'intero processo di preparazione sarà completato con successo, avrete finalmente l'opportunità di entrare a far parte della compagnia dei marinai di sottomarini e immergervi completamente a grandi profondità. E non è tutto. Dovrete sopportare il primo anno da matricola su un sottomarino e solo allora potrete contare sul rispetto degli altri, essendo finalmente entrati a far parte di un gruppo elitario di marinai della marina, con ottime opportunità di promozione, uno stipendio del 30-40% più alto rispetto ai marinai di superficie e future opportunità di lavoro sia nel settore militare che in quello civile. Con questo è tutto amici. Allora, alla luce di tutto questo, voi decidereste di arruolarvi per una vita da marinai di sottomarini? Dite la vostra con un commento. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. A presto!